Proviamo a vincere Che sia scarso Non era scarso Inizio ad avere dei dubbi su Terra Steel comunque Evitalo Sono vivo la Perona Lo sapevo Lo sapevo Però avevo bisogno di quel danno Però lo sapevo Avevo bisogno di quel danno Però lo sapevo Lo sapevo Allora Ah, questo non era previsto. E' andata male. Perché non ha scambiato? Maledetto il signore. Dovevo tirare dal comitio e basta? Probabile. Probabile. Colpa mia. Ma forse si può vincere lo stesso, questo. L'avversario non scambia manco morire, ma ce l'ha arrivato al Blessing? Credo. Grazie a tutti. Ok. Lui a terra cristallizzato? No. Eeeh, ce l'abbiamo fatta! Ma siiii! Molto bene. Questa partita sta mandando un sacco di merda ma meno male che c'è Walking Wake. forte questo set, io lo sottovalutavo, invece è forte che terratipa dovrebbero andare da mungus, qualcosa che mi aiuti a non perdere da carona a terrafuoco secondo me terrafuoco non è male, perché aiuta a non perdere da carona e anche serulage e gli posso tirare foul play se si boosta in alcune sd e continua a resistere Fata che a me interessa che resista Fata non so se sia una buona idea da terrafuoco ma io non ho mai premuto terratipa posso dire per questo vabbè basta è finito il video ciao